Il dottor Davide Bisogno vi aspetta in via Starza 27 a Cava dei Tirreni. Nella giornata di ieri, 16 maggio, alle ore 17, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avvarcato la soglia dell'aula bunker del Palazzo di Giustizia di Nocere Inferiore. Ad attenderlo, il presidente del Tribunale, Massimo Palumbo, e il procuratore, Antonio Centore. Ad accompagnare il ministro, il sottosegretario agli esteri, Edmondo Cirielli, ed altri parlamentari di Fratelli d'Italia. Il ministro Nordio, nel corso del suo intervento al Tribunale di Nocere Inferiore, ha incontrato i vertici della magistratura salernitana e nocerina. Blindato l'arrivo in città, con il servizio d'ordine gestito da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Generalmente, spiega Nordio, viene lamentata la scopertura degli organici, cioè la presenza di un organico teoricamente adeguato, ma purtroppo scoperto. Al Tribunale di Nocera la situazione è drammatica, perché non si lamenta la scopertura, ma si lamenta il fatto che la pianta organica sia inadeguata. Coprire dei posti in organico, benché sia una procedura complessa, è relativamente facile, mentre aumentare la pianta organica è complicato, prima di tutto per le risorse finanziarie, afferma Nordio. Quest'ultimo sostiene che in due anni, entro il 2026, saranno colmati gli organici della magistratura con l'assunzione di 1.900 magistrati. Nel corso del suo intervento, Antonio Centore, capo dei PM Nocerini, nel ricordare due interrogazioni parlamentari recenti che hanno posto l'attenzione sulle criticità del Tribunale, ha sottolineato che entrambe le domande hanno concentrato la loro attenzione solo sulle difficoltà degli uffici giudicanti, ignorando del tutto quelle dell'ufficio di procura. Poi ha elencato una serie di interventi ritenuti necessari, tra cui l'ampliamento e la copertura integrale degli organici del personale amministrativo, l'adeguamento della pianta organica della sezione di polizia giudiziaria, dei magistrati e l'istituzione della figura del procuratore aggiunto. Soddisfatto il senatore Antonio Iannone, che ringrazia il ministro Nordio per aver accolto questa richiesta, rivolta con determinazione dal viceministro Cirielli, dalla deputata Emma Vietri e dal senatore Iannone stesso. Anche il deputato di Fratelli d'Italia, Emma Vietri, ringrazia il ministro della giustizia Carlo Nordio per l'importante attenzione che ha voluto riservare, recandosi personalmente, al Tribunale di Noceri Inferiore. Quello di ieri era un incontro particolarmente atteso da avvocati e magistrati per discutere ed iniziare a trovare soluzioni a diversi problemi, a partire da quello relativo alla grave carenza di personale. Il ministro Nordio, che ha riconosciuto le singolari criticità del Tribunale Nocerino, si è impegnato, insieme al viceministro agli affari esteri, onorevole Edmondo Cirielli, a mettere in campo azioni concrete per, innanzitutto, aumentare la pianta organica della struttura giudiziaria. L'obiettivo è garantire finalmente ai cittadini una giustizia efficace in grado di soddisfare i loro diritti. Presente anche il sindaco di Noceri Inferiore, Paolo De Maio, che in occasione della visita del ministro della giustizia Carlo Nordio, presso l'aula bunker della cittadella giudiziaria di Noceri Inferiore, ha espresso alcune considerazioni in qualità di sindaco. Una prima riflessione riguarda la questione della manutenzione delle strutture. A partire dal 1 settembre 2015, la gestione degli interventi su tutti gli immobili adibili ad uffici giudiziari è in capo al ministro della giustizia. In vertu di questa disposizione, è auspicabile l'impiego di maggiori risorse per la manutenzione della cittadella giudiziaria. Inoltre, il comune di Noceri Inferiore è disponibile a concedere agli uffici giudiziari i locali comunali dell'ex lavanderia, area inagibile da tempo che necessita di importanti interventi di riqualificazione e quindi di un finanziamento rivolto a tale scopo. Un altro aspetto che il sindaco ha voluto sottolineare è il supporto che questa amministrazione comunale offre alla cittadella giudiziaria in termini di risorse umane. Sono stati infatti assegnati 11 percettori di reddito di cittadinanza al servizio presso il Tribunale, Procura e Giudice di Pace per lo svolgimento dei progetti utili alla collettività e, a breve, inizieranno a svolgere servizio altre 7 risorse.